risolvere in tanti modi questo errore grazie all'assistenza di Epic Games facendo varie modifiche nella cartella di Fortnite e aprendo Fortnite direttamente su Steam quindi in questo caso noi ti abbiamo così cacciato alla partita per colpa perché tu stai usando una VPN oppure stai citando quindi in questo caso ti consigliano di non usare una VPN o proxy su Fortnite quindi in questo caso per risolvere il tuo problema andiamo un attimo su Epic Games tre puntini su Fortnite e andiamo su gestisci una volta andate su gestisci vai nella cartella di Fortnite vai su Fortnite game binanis win64 scende fino a giù fino a trovare il Fortnite client win64 shipping tasto destro sopra proprietà e andiamo su firme digitali e andiamo direttamente a cliccare sulla cartella su uno di questi tre formati quindi EasyAntiSheet o i dettagli vai su visualizza il certificato installa così il certificato e lo fai su tutti e tre una volta installato così il certificato lo fai anche su Epic Games Incorporation questo qua visualizza il certificato installa il certificato fai avanti avanti e fine e lo fai anche sull'ultimo una volta fatto tutto questo andiamo direttamente su tasto Windows più R apri così la schedina esegui puoi direttamente scrivere esegui qua sopra quindi sul sistema esegui per cento app data per cento fai ok una volta andate su app data vai su app data local scendi fino a giù fino a trovare la cartella di Epic Games Launcher cancelli così la cartella di Epic Games Launcher se c'è quella di Fortnite cancelli pure la cartella di Fortnite game ed eccola qua cancelli svuoti pure il cestino riapri così Epic Games facendo di nuovo l'accesso con il tuo account accedi così con Google oppure con un tuo account qualsiasi una volta eseguito tutto questo andiamo direttamente a provare ad avviare Fortnite su Steam aggiungi un gioco aggiungi gioco non di Steam sfoglia e andiamo direttamente nella cartella di Fortnite Fortnite game binarism 64 Fortnite launcher e fai apri e provi a eseguire Fortnite direttamente su Steam se in questo caso non dovesse funzionare tutto questo possiamo direttamente chiedere assistenza a Epic Games quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina richiesta di assistenza di Fortnite come puoi vedere questo è epicgames.com slash help questo qua vai su aiuto scendi fino a giù fino a trovare Fortnite scendi fino a giù fino a trovare account contattaci ed eccolo qua crea una richiesta da parte di genitore se sei un minorenne quindi lo chiede il genitore di risolvere così il tuo problema piattaforma mettiamo pc playstation mac android switch motivo per cui ci stai contattando connessione prestazioni o codici di errore e scrivi così il tuo problema quindi in questo caso tu fai capire così all'operatore che poi ti contatterà per via email alla tua email potrai anche parlare con lui dicendo che io non sto usando nessuna VPN proxy non sto citando quindi il mio account è pulito e pulito quindi non sto avendo problemi quindi ho un problema con la VPN mi ha accacciato la partita perché sto usando una VPN oppure sto citando ma non è vero non sto usando niente di tutto questo selezioni pure il file da inviare a loro per fargli capire qual è il tuo problema ed eccolo qua una volta fatto invia una richiesta per email una volta inviata così la richiesta ti risponderanno entro 24 ore e quindi se questo video è stato utilissimo iscriviti, lasciate un like se hai altri problemi iscriviti sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao